Asbrega Fioi, qua il Masseo. Oggi siamo nuovamente su Blue Lock Project World Champions, il Global, perché appunto Fioi è uscito un grande, unico e inimitabile, Reinsuke Kunigami. Guarda qua, c'ho anche il grodo firmato di Reinsuke Kunigami, bello dip. Asbrega Fioi. L'eroe che controlla lo spazio aereo. È uscito il grande Kunigami con, fammi vedere un po' le statistiche ragazzuoli miei, è un 60% in più sul fisico e un 40% in più sul tiro. Di base c'ha un 22 e mezzo quando lo alleni, un 37 e mezzo in più sul fisico e un 19 e mezzo in più sulla stamina. Non è malvagio, eh, in realtà. E quindi questo è Kunigami, ma poi è uscita anche la carta supporto, che non è per un cazzo male. Special Lecture 70% in più. Ragazzi, è forte anche sta carta del cazzo. Va bene, ragazzi, allora, noi abbiamo 128.000 gemme, sì, da shoppare tutte, come godo. Allora, il primo obiettivo, come sempre, è quello di completare il giocatore e poi la carta supporto, perché di carta supporto ne ho abbastanza già al 100, quindi mi sento bello completo. Ragazzi, vi chiedo, sì, io sono contento se arriviamo a 2.000 like su questi video, perché sto gioco lo sto veramente distruggendo e mi piace un sacco. Andiamo da Rinsuke Kunigami Aerial Battle. Io ti dico che le ha metto sotto la traversa centrale, vediamo un po'. Diventa d'oro? Non diventa d'oro il roll gratis, ti pare che diventi d'oro il roll gratis. Mamma mia, che preziose queste palle, tutte bianche, che golose. Si attiva la super chance e andiamo, si comincia a rollare bene. Abbiamo ancora Isagi sulla palla, in alto, a sinistra, sotto all'incrocio dei pali. Dai, fammi vedere la palla d'oro. Bello, bello, mi piace. Fammi vedere che sfonda la rete. Non sfonda la rete, ragazzi. Però c'è sempre la possibilità che ci possa essere qualcosa. Imamura e Jubei Aryu. Niente. Questa super chance oggi veramente... Dai, arriva King. Niente. Non arriva il King. Isagi parte con il grande tiro. La palla diventa d'oro. Rotola, rotola sui miei coglioni. Mamma mia, come mi fa godere. Perché si spacca la rete e adesso il 3 stelle è garantito, ragazzi. Sperando che sia lui, dovrebbe essere lui, teoricamente. Kawa, Lemon, Tokimitsu. Aoshi, Tokimitsu. Già, ce l'abbiamo. Bello dip e non è lui. And chance. Madonna, stiamo sculando oggi, eh, ragazzi. Eccolo qua, Rinsuke Kunigami. Finisce il grande, unico e limitabile super chance. Niente. Non abbiamo trovato un cazzo neanche adesso. Kage, Kira, la Madonna. La Madonna, andiamo avanti. Super chance si attiva subito dopo essersi disattivata. Me lo dai una volta, sto cazzo giocatore? Non ti sto chiedendo la luna, eh. Niente, il re non si palesa ancora. King Baro. Palla d'oro. Potrebbe sfondare la rete? Potrebbe sfondare la rete. Potrebbe sfondare la rete. Super chance, eh, ricordiamolo. Kigiri, Rinsuke, Wanima, Bacira, Kira, Imamura, Jubei Aryu, Naruaiya. Oi, di d'oro. Sishiro Nagi. No, no, va il c... Ragazzi, è impossibile trovarlo, sto cazzo di Kunigami, eh. Kunigami così raro? Veramente non me lo sarei mai aspettato. È veramente raro, cazzo, da trovare. Oh, i di d'oro. Iki nico, mamma mia, iki nico. Super chance, si attiva di nuovo. Sì, però... Beh, non pare che il drop rate di sto figlio di puttana sia aumentato. Ho buttato 30.000 gemme e non ho trovato una sega. No, da malasci. Kunigami, vuoi uscire? Ok. Palla diventa d'oro. Sfonda sta cazzirete e siamo tranquilli. Oh, grazie. Però che sia Kunigami stavolta. Sio porco. Sio porco! Raichi, Naruaya, dovrebbe essere quello là. Lemon, Wanima, Iki nico, Raichi, Raichi. Seshironagi! Olè, ragazzi! Impossibile trovare Kunigami! Incredibile! Signori! Quest'oggi mi sgozzo davanti a tutto il vicinato! Anato! Ma no, non si può trovare il coglione! No, schi... 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 Tutto. Ma no, ragazzi, non si può... Ma non si può non darlo! Oh! E laiamo il... Ma no, da mu- No! Una sfiga oggi! Imperdonabile! Wanima, Raichi, Wanima, Ikira e quel... Oh! E no, no! Oh! E no, no! Ma dove cazzo è? Oh! Il Kinga! Finalmente! Sì, ma dammi quello che non ho! Ora! No! E poi balla d'oro! Sono dalla rete! E... Finalmente! Rinsuke Kunigami! Aerial Battle! Cristo Dio! Un altro Kunigami, ma è quello normale! Gagamaru! Madonna! Cioè, è stato veramente un parto trovare sto figlio di puttana! Ma mi fai vedere il trade se ci sono quattro pezzi? Almeno ci sono quattro pezzi golosi da 100, almeno quello! Con tutto quello che gli sto dando a sto gioco di nai... Poi dovrebbero farmi una statua! Oh! Alla d'oro sfonda la rete, ti prego fammi vedere il pisello! Non sfonda la rete! Ma c'è sempre la possibilità! Uanima! Uanima! Ui! Uro! Anno da ma... Ai c'è! Uro! Anno da ma la... Ma perché? Ma perché non trovo una sega? Ui! Io non trovo ma non lo trovo! Porca troia! Oggi veramente una Iella devastante! Alla d'oro il portiere non la vede arrivare! Non sfonda la rete! Quindi c'è il dubbio! Sujubei, Aryu, Kigiri, Okawa... Ragazzi! Ne ho trovato solo uno in 50.000 gemme! Aira ma... Ah no! Ma... Raichi! Zantetsu! Kigiri! E na... Oii! Oggi io mi vado a buttare nel lago e spero che un mulinello... Mi trascini sotto e mi affoghi! Voglio morire affogato! Ma come fa... Ah eh! A non diventare d'oro! Sfonda la rete ti prego! Non sfondano più la rete! Kunigami! Wanima! Oh! E finalmente! Ma poi un altro! Super Hero Ninora! Grande! Kunigami! Uno dei miei preferiti! Tetsu! Wanima! E Bacira! Andiamo avanti ragazzi! E siamo a due eh! Dai! Isagi! Ciucciami le palle! Niente! Non ci trovo un cazzo! Gagamaru! Ah no! Ma la cro... Fa schifo al cazzo! Via! Schippare! Attenzione! Kunigami sulla palla! Ti prego! Trovati! Trovati da solo! Doro! Bravo! Sfonda sta prodotto di rete! Sfondala! Non la sfonda! Però potrebbe essere eh! Che ci sia! Wanima! Eccolo qua! Perfetto! Siamo a tre dai! Siamo a tre! Rensuke Kunigami! È proprio lui! Wanima! Gagamaru! E Igarashi! Siamo a tre! Quindi 25, 50, 75 e 100! Dovevamo arrivare a 200 qualcosa! Per portarlo al 100! Conta che dopo ci andiamo a tradare 2 se non 3! Si sfonda la rete! Attenzione! E la diamo il... Dopo mille anni! Puoi ridarmi lui? Sì! Sì! Così si ragiona! Rensuke Kunigami! Aereal battle! Bravo! Dammi un altro! Giubai Ario! Baranent! Puoi schippare! Bene! In alto a sinistra! Sempre! Ma mi sa che in alto a sinistra sta portando un po' di sfiga eh! Schippa! Neanche lo guardo! Fai così però! Andiamo a tradarci! 3 di questi! Andiamo sul team! Enounce Players! Abbiamo 200! Possiamo portare a livello 6! Quindi a livello 80! Dobbiamo trovarne 4 ragazzi! Per portarla al 100! No basta farla in alto a sinistra! Sto avendo solo sfiga in alto a sinistra! Sto avendo solo sfiga! No no no! Mai più in alto a sinistra! Non tiro mai più in alto a sinistra! Chi cazzo è questo? Kigiri! Ce l'ho già! Ma non aveva né sfondato la rete e né era oro questa palla! Madonna! Quindi è completamente a cazzo di cane! Non lo puoi prevedere! Mi sembra quasi impossibile poterlo trovare! Allora in alto a destra! Via! A destra abbiamo sempre buttato in alto a sinistra! Palla non d'oro! La palla va comunque a sinistra così decide lei! Tante palle d'oro ma non è detto che ci sia qualcosa dentro! Wanima! Buon! No vada malacrope! Oggi veramente vorrei infilarmi una pistola nel culo e sparare fortissimo! Attenzione! Rensuke Kunigami! La palla diventa d'oro! Sfonda la rete! Attenzione! Dammi l'Aerial Battle! Zantetsu! Che cazzo è questo? Seshironagi! Ragazzi! Seshironagi! Lemon! Igra! Eccolo! Superhero! Superhero! E ne mancano due perché uno possiamo già ridarlo tra poco! Oh! Mi ha dato quell'altro! Cazzo me ne ha dati tre vecchio! Tre da tre stelle! Solo che due ce li ho già! E uno è quello che mi serviva! Se mi avessi dato due di questi sarei stato veramente a sbrigare anche Fioi! Qua glielo metto proprio sotto l'ascella a destra! Boom! Sotto l'ascella a destra la palla diventerà d'oro? Molto bene! Sotto l'ascella a destra la palla non sfonda la rete! Ma ci abbiamo sempre una possibilità! Lemon! Naruaya! Igarashi! Imamura! Igarashi! Won! Gagamaru! Oido! Sì! 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 Dammi un altro! Me ne serve un altro! Me ne serve un altro! Se ho fatto i calcoli giusti... Ragazzi! Ma come per due? Ma è sempre stata sta roba? Me ne sono accorta adesso! Per due! Ma è nuovo? No Fioi! Aspetta! Per due! Me ne ha dato i 50! What the fuck? Ma che è sta novità? Perché se noi facciamo così... Trade! Boom! Attenzione! Portata al 100! Si gode! Abbiamo Rensuke Kunigami! Aerea al battle! Al 100! Aiuto! Con gli ultimi 14.000 andiamo a cercare un po' la carta supporto! Che male mai non fa! Non ho visto l'animazione! Gagamaru! Kwon! Che tradisce! Rensuke Kun... Proprio lei! These guys are strong! Oh my god! Asbrega Fioi! Demon! Kwon! Oh! Ah! Our only ocean is to crush them! Ce l'ho già forse! Super chance! Ce l'avevo già lui! Sì mi sa di sì eh! Andiamo avanti ragazzi! Finiamo queste gemme golose! È stato un parto eh! Ti devo dire la verità! Fammi vedere che Akera, Jinpachi Ego e cosa viene fuori! Una bella d'oro? Merda! Un bel cazzo in culo! No non c'è niente qui dentro ragazzi! Probabilmente! Kwon! I saltini! Le puttane! Rensuke! Gagamaru che fa del catcalling! La fregna! Via la fregna! Via la fregna! Fammi vedere il cazzo dai! Dai Jinpachi fammi vedere il cazzo dai! Niente! Non c'è Harry! Attenzione perché è oro! Potrebbe voler dire qualcosa? Nico! Nico! E la madonna! End of the super chance! All'Lucky! Ultima pullata della giornata ragazzi! Attenzione! Tante palle d'oro! I do croce ce l'ho già uo! Wow! Niente! Abbiamo finito! Super chance! Ragazzi! Olè! Aspetta un attimo Lucky Chance! Se io vado su Hot Players ragazzi! Cioè 181.000! Questo non è niente perché se in club Conor ce n'è uno da 172 e io ce n'è uno da 152! E' stato il mio massimo dopo non sono più riuscito a fare un cazzo! Vedete il secondo più forte è questo Shoebaro che sono riuscito a fare a 130! Ah no il cazzo c'è questo qua! Cazzo Jingo Rauichi 131 non me lo ricordavo di averlo fatto sai! Però faccio un video separato magari dell'allenamento! Perché di allenamento effettivamente non vi ho portato un bel cazzo di niente! Vediamo come viene e sti cazzi! Ragazzi se avete una potenza di squadra dai 300.000 in su fate richiesta ai Red Lock vecchio che è questo club! Fate richiesta abbiamo bisogno di gente vecchio! Stiamo prendendo il cazzo! Se volete joinare da 300.000 in su a Sbrega! Ragazzi io vi saluto vi ringrazio grazie per questa grandissima groda! Almeno abbiamo portato al 100 subito con i gami e ce lo siamo tolto dai coglioni! Io vi chiedo un like! Se arriviamo a 2k sono contento perché capisco che questo gioco sia estremamente di nicchia! E niente fioi! Ricordatevi sempre se avete due aziende non siete razzisti! Buon proseguimento! Ciao!